Ciao ragazzi siamo sempre su PS4 pronti per provare Resogun uno dei due titoli in esclusiva PS4 al lancio Bella rega! Bella zia! L'ho fatto bene Mi hai fatto poi mettere dei bibi per censurare Noi cazzo sei Tia, non sei in chiesa? Stai pagando, stavi? E rimani, e riassorto e poi... Mi stavo grattando cicci Guarda che vi si vede, attenzione, non fate cosa sconcia C'è un asteroide che stasera partendo Mi ha sparito la stormada Io volevo salutare i miei fans che mi adorano E io voglio salutare i fans di Leo Ciao fans di Leo Esatto Lo adorate Di questi ventilatori Mi venerano come una divinità Se c'è anche solo una persona che adora Leo lo scriva Leo fai cagò Io adoro Leo, tutti gli altri non mi piace Allora vediamo un po' Online Boom Arcade Esperto Eh si, questo è bello Literario Esperto Fobox Nemesis Nemesis Solo per il nome Primo livello Vi facciamo vedere solo il primo livello qua Forse possiamo fare bomba C'hai anche il lancio C'è il mano Non lo so Lancio in mani Acceleratore Non ho letto Lancio in mani Lancio in mani Si tira un po' la stormada Salva gli ultimi mani Ma bene Ho giocerato Ho tirato la bomba Ho sparo Ho girato la bomba Ho girato la bomba Ho mi capito Se l'ha scritto spara con la bomba Rai che bella la nostra mobina Mi sa voglio mai E come Spari la bomba con prima Non so più o bombo Questi Questi bit, devo dire Ma però mi stai seguendo me Ho capito Leggermente rinco Rega Questo è un bonus Power up Era un bonus ma non mi si doveva schiantare contro Ci manca una cosa fondamentale Un borsi di console Se lo dici nei video è meglio che Dici Ma che è una figata Senti il ritmo E' ritornato tutto molto Oh, dunsca, 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 dunsca Dunsca, dunsca, dunsca Cos'è che ha detected Multiplier up Multiplier up Non so perché C'è un tipo morto comunque Io mi detecto e poi e' esploso E' esploso E' esploso Ti fai indietro questi I retromaccia Sì, leo spara e retromaccia Guardate che è bellissimo fare uno sparatutto così eh E' geniale Questa è una sfera circolare su cui io posso danzare Non ti è che danza con la fianco Un po' più Un po' più Un po' più Questo no Boom, morto Si sono distrattoli sono un pro difendito dei vicini aumenta un casino la difficoltà col fatto che non si può eh ti lascio non lo devi lanciare imbecil e dove li devo portare ah devo portarli qua ah mi capito che li devo portare qua ah salvatore mi capito, ragazzi siamo ricogniti, sono le due di notte adesso dobbiamo dire alla Stefano che non è vero, una mezza, una mezza, una mezza, solo due non fa quello che c'è scritto schermo solo perché c'è scritto schermo perché se acceleri secondo me non mi allonge più infatti un mano perso lei ha un'accelerare, lei ha un'accelerare, 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 un'accelerare la loro notte che si è messo con mezzo non so, mi sentivo così potremmo a tia, fai il tiro, fai il tiro, ciao fai il giro tu salvato, bravo ti ha dato anche lo scudo puoi subire un danno quello devi romperlo prima di schiantartici contro a fare come ho fatto io che sono stato un vero idiota veramente no perché c'era un nemico prima funziona veramente carino per essere un regalino tanto per provare la nuova consorzio si dai, ha gli effetti di luce sembra divertente ottimo per chi ama le sue atta la dp ha come schillato schillatissimo tia che roba la via domanda c'è il dubbio non so ho mai visto fare questo genere nei giochi ah no che ti ha fatto record che ti mancava l'argento la super start us ti mancava l'argento non so non so magari eri giovane buono non so c'è una percina verde che punta a qualche parte? no no ehi 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 stai dicendo te l'accelerata li distrugge? c'è un'altra cosa ora come il mondo dove c'è non so con la moto di dentro c'è un'altra è morta di lecce che hai mentre mi aspettavo devi continuare a girare forse comunque fanno paura i caro mattini per terra eeeh ancora l'altra eeeh non so erano parti senso che se le due sale bobo c'è un tipo c'è un tipo c'è un tipo non so dove non so dove non so dove non so dove c'è un tipo c'è un tipo d'amera bo wow credi la foto come spesso subito l'aspetto trofeizzante delle foto la day la il mentre non c'è ancora nessuno continua a zero bomba un'ultima però belle queste immagini molto epilettiche la stessa data epilettica non lo scaricato ma la sony comunque lo dice quando accendi la console che si offre ricordo sempre si vuole essere sicuro non è morto un altro oh ne è rimasto uno e lui stai qui tanto sotto guarda vedi quanto è completata la fase 1 2 da sotto e giocando otto eccolo l'hai grabato un rapporto alla casena portati 5 su 10 ma ne tirano non avendo capito come funzionava devo dire che sono stati tanti eh ah si bene niente non funzioniamo più niente basta non è bene che c'è eh dobbiamo prenderle prima però eh esatto per darli bisogna averli per dare quei pochi euro dobbiamo prima averli non lo facciamo per passione se no lo sarebbero le due di notte a giocare a play 4 potremmo mettere una casa sua mi sembra un'ottima raga ti sei perso l'iperguida eh eh mi sei perso l'iperguida mi sei perso l'iperguida ma comunque vabbè con motivi diversi mi approfitto per salutare la mia ragazza scusa c'è una boss battle uh è che una cosa questa boss battle è perfetta per il gioco io vi consiglio anche retrograde se non avete mai giocato giusto ti piace un sacco della simile come gameplay e come musica potete dire di sì o di no come tutto come come stavo retrograde ti piaceva un po' si è vero che i miei 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 come musica se anche uno spettografico ti studiare un allenamento dopo eh si devi filare ma si vai da fare due volte vabbè che spiega se stasera mentre passavo bastardo va bene dai salutiamo no no salutiamo dal tavolo principale dai torniamo a salutare dal lancio umano ci sta usa l'accelerazione e lancia l'umano c'era che si chiude oh cazzo perché sei così infastato ho voluto inquadrare il mio bel pigiamino dai ci vediamo col prossimo video e niente ciao a tutti ciao ciao